Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Dopo mesi di attesa Paolo Frattura rivela il contenuto integrale del piano operativo sanitario 2015-2018. I tagli imposti dal commissario ad acta rappresentano un dato scandaloso a cospetto dei privilegi che la casta si concede. Sotto la scure cadono l'assistenza domiciliare, farmaci, defibrillatori, laboratori analisi e persino le forniture di pannoloni per gli anziani. Confermato il declassamento del Vietri di Larino e del Santissimo Rosario di Venafro. Invariato il piano di integrazione tra Cardarelli e Fondazione Giovanni Paolo II. Sentiamo Pasquale Di Bello. Se non fosse per il fatto che ne stringiamo una copia tra le mani, la notizia sarebbe talmente incredibile da far dubitare sulla sua autenticità. Paolo Di Laura Frattura, presidente della Regione Molise e commissario ad acta per la sanità, ha finalmente svelato il contenuto integrale del piano operativo speciale 2015-2018, documento nel quale vengono descritti analiticamente gli interventi oggetto da mesi di feroci contestazioni. Atteso in vano per mesi, il documento è stato messo nella disponibilità dei consiglieri regionali dopo l'audizione di frattura in quarta commissione, circostanza nella quale egli non ha parlato del piano ma si è limitato ad illustrare la proposta di legge 138 che detta principi generali in materia di sanità. Il piano, 166 pagine in totale tra documento principale e allegati, racconta in buona sostanza quello che già era trapelato a partire dalla fine ingloriosa a cui sono destinati i nosocomi di Venafro e Larino, per i quali scritto nero su bianco è prevista la disattivazione delle funzioni ospedaliere, tutto invariato per il progetto di integrazione tra Cardarelli ed Ex Cattolica e la trasformazione del caracciolo di Agnone in ospedale di zona disagiata. Quello che però genera raccapriccio è la lettura comparata tra i privilegi che i loro signori si concedono e i tagli che sono previsti al sistema sanitario, a fronte degli 11.000 euro al giorno che i molisani spendono per pagare le indennità e le prebende dei consiglieri regionali a cui mai loro rinuncerebbero, la mannaia di frattura si abbatte sul sistema sanitario chiamando risparmio quelli che ad un'attenta lettura diventeranno dei veri e propri tagli destinati a produrre un calo verticale della qualità nei servizi erogati. Nel solo 2016, ma i dati crescono per l'anno 2017, il piano del commissario ad acta prevede tagli per oltre 500.000 euro all'assistenza domiciliare, 150.000 euro a quello di nutrizione a domicilio, 375.000 sono gli euro tagliati ai laboratori analisi, 410.000 i tagli per i defibrillatori, di 2.362.000 euro e la contrazione prevista per medicine e materiale medico e di 512.000 quella per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, 111.000 euro per la fornitura di farmaci e vaccini. Se non fosse per la drammaticità della situazione, il taglio che a paragone dei privilegi della classe politica risulterebbe più comico è quello per la distribuzione a domicilio degli ausili per incontinenti, in pratica i pannoloni, ben 289.000 euro. In compenso, per il 2016, lorsignori hanno destinato ben 5.000 euro per la carta igienica e i saponi necessari al Consiglio regionale, un dato che grida vendetta davanti a tanta sfacciataggine e, passateci il termine, incontinenza della casta. A sei anni di distanza dalla consegna dei lavori è stato finalmente aperto il nuovo comparto operatorio del Veneziale di Isernia, permetterà di rendere più sicuri ed efficienti gli interventi di tutti i reparti dell'ospedale. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Dopo anni di attese e inconvenienti è stato finalmente inaugurato il nuovo comparto operatorio dell'ospedale veneziale di Isernia. Dotato di attrezzature moderne e destinato a rendere più efficienti e sicuri gli interventi. Da ora in poi tutti i reparti faranno riferimento alle due nuove sale operatorie, ad eccezione di quello di ostetricia che resta autonomo e indipendente. L'inaugurazione era attesa da un bel po' di tempo e finalmente ci siamo riusciti. Questo è un nuovo blocco operatorio, significa più sicurezza per i malati e per gli operatori e soprattutto serenità, tranquillità per ciò che riguarda il lavoro. Speriamo che questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza e che esso possa rappresentare una svolta per quanto riguarda il nostro ospedale. Dobbiamo crederci, lavorare sempre di più e meglio e questo è a garanzia dei cittadini e della sanità molisana. In un periodo in cui Italia e la sanità stanno mettendo in discussione anche il futuro del veneziale, l'inaugurazione del nuovo blocco operatorio rappresenta un segnale in controtendenza che stimola il personale a fare meglio e a dimostrare con i risultati che la sanità a Isernia può e deve andare avanti. La sensazione è quella di lavorare in un ambiente decisamente più idoneo per tutti i pazienti oltre che per il personale e la volontà è come ha detto precedentemente il dottor Graziano è quella di lavorare sodo perché questo è il nostro ospedale che ha sempre funzionato, continua a funzionare con livelli di qualità e di quantità assoluti per cui dobbiamo solo andare avanti, rimboccarci le maniche e andare avanti. Non è stato tuttavia facile arrivare all'inaugurazione del comparto operatorio. I lavori erano stati consegnati nel 2010 ma lungaggini burocratiche, ascensori non a norma e altri problemi tecnici hanno fatto slittare l'apertura di ben sei anni. Manca ancora qualcosa per arrivare alla piena efficienza ma questo è comunque un importante passo in avanti. Certamente poteva andare meglio, non è andata male ma poteva andare meglio. L'assenza dolosa di alcune componenti di questo settore lascia un po' perplessi e preoccupati per il futuro. Dobbiamo ringraziare i medici, gli operatori tutti del comparto operatorio che si sia arrivati a questa determinazione. Il dottore Graziano che con tutta la sua equipe viene sempre incontro alle nostre esigenze di chirurghi ma soprattutto viene incontro alle esigenze degli utenti della città di Sernia che aveva diritto già da molto tempo a tenere una struttura così ambiziosa e all'avanguardia. Il nuovo centro-destra parte da Isernia. Come Alfio Marchini a Roma, Gabriele Melogli potrebbe essere il sindaco di uno schieramento inedito che tende a combattere Matteo Renzi sullo stesso terreno quello dei moderati. Mettendo da parte gli estremismi della destra, lo ha detto il senatore Gaetano Quagliariello a Isernia. Il servizio è di Enzo di Gaetano. Per Gaetano Quagliariello, senatore attuale portavoce del movimento IDEA, nato prima dall'ascissione con Forza Italia e dopo da quella successiva con l'NCD, Gabriele Melogli potrebbe avere a Isernia la stessa funzione che ha Alfio Marchini a Roma, ovvero rappresentare una nuova alleanza dei moderati che mette da parte gli estremismi della destra lepennista alla francese e combatte Renzi sul terreno del centro dei moderati. Insomma, una nuova versione del centro-destra come è stata rappresentata a Roma da Berlusconi che ha scaricato Bertolaso per Alfio Marchini, Rombento con Fratelli d'Italia e con noi con Salvini. Io sono qua per un ragionamento politico. Noi abbiamo sostenuto sempre dall'inizio di questa legislatura che era necessario rinnovare il centro-destra e costruire una nuova alternativa a Renzi. Questo non si fa contro i partiti, ma aggiungendo qualcosa ai partiti e aggiungendo qualcosa che possa modificare il vecchio centro-destra senza attardarsi nelle nostalgie e avendo anche il coraggio di prendere di stacco da una parte del passato che non vuole cambiare. Tutte queste condizioni sono nella candidatura che noi presentiamo qui a Isernia. È una candidatura che coniuga l'esperienza e la novità, che coniuga una parte del vecchio centro-destra e una parte del nuovo centro-destra che ritiene si possa aprire una stagione nuova e che non ha chiuso la porta a nessuno ma non ha accettato diktat o padrinati da parte di nessuno. Fin qui Quagliariello, che comunque ha sorvolato sul fatto che a Isernia, contrariamente a quello che accade a Roma, noi con Salvini non sta con Fratelli d'Italia e Giacomo da Pollonio, ma con Forza Italia e quindi con Melogli. Ma si sa, in tempo di elezioni tutto fa brodo e anche noi con Salvini di Luigi Mazzuto potrebbe servire, anche se l'ex presidente della provincia di Isernia ha detto che la sua lista ci sarà, anche se lui forse non si candiderà. E questo la dice lunga sulle difficoltà che tutti i candidati hanno per riempire le liste, come con onestà intellettuale ha confermato lo stesso Gabriele Melogli. Diciamo che ancora devono essere ultimate, siamo a buon punto però mancano ancora dei candidati perché, come dicevo poc'anzi, c'è stata una tale richiesta di candidature qui nella città di Isernia e penso che ogni cittadino ha ricevuto delle proposte da più di una persona. Per cui insomma stiamo vedendo, mancano ancora qualche candidato, manca per almeno due liste. Per la campagna di sottoscrizione dei referendum costituzionali e sociali previsti a ottobre, domani il Movimento 5 Stelle ha indetto una conferenza stampa nella sala adiacente al Consiglio regionale per annunciare il sostegno ai comitati per il no e le prossime iniziative. Intanto il consigliere regionale 5 Stelle Federico sulla sua pagina Facebook ha condiviso, come hanno fatto anche altri sulle social network, uno stralcio del discorso del premier Renzi durante la presentazione della campagna in favore del referendum costituzionale che c'è stata ieri a Firenze. Il premier ha citato riguardo la promozione turistica il Molise in una frase che ha provocato reazioni indignate sul web. Sentiamo cosa ha detto Renzi nel video divulgato dai 5 Stelle. La promozione del turismo nel mondo. Ora, se te sei la Toscana, puoi anche andare in Cina e dire, vieni in Toscana. Fanno faffati anche lì, eh. La Cina ha un miliardo e trecentomila per struttura. Se stai in Firenze, lo puoi fare. Guarda, oggi mi voglio veramente... Anche se sei qui se Siena. Voglio proprio allargarmi oggi. Ma proprio... Poi non lo rifaccio. Però, in un momento di debolezza. Persino se tu sei Pisa e Siena. Pisa, quando la forra è storta, quindi va bene. Cioè, l'hanno presente. Se sei in Molise, non fai campagna turistica all'estero. Se sei una piccola regione, non fai campagna all'estero. La devi fare come Italia. Nel referendum, noi abbiamo detto che, per esempio, la promozione turistica all'estero torna allo Stato centrale anziché rimanere alle regioni. Proseguono al Tribunale di Isernia gli interrogatori delle persone coinvolte nell'inchiesta sugli appalti truccati. Oggi il GIP riuscito ha ascoltato altri quattro tecnici comunali. Nel frattempo, il magistrato ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari per l'imprenditore Gianpaolo Calabrese. Il suo avvocato Fabio Milano ha presentato ricorso al riesame. Dopo quasi cinque anni, dallo stop, ripartono i lavori dell'acquedotto molisano centrale che porterà acqua disorgente nei comuni del Basso Molise. L'opera è stata sbloccata dal Cipe. Sentiamo Manuela Iorio. In Molise, regione italiana più ricca di acqua in percentuale rispetto al proprio territorio, ci sono ancora migliaia di residenti costretti a usare acqua di fiume potabilizzata. Si tratta dei cittadini del Basso Molise che per decenni si sono visti arrivare nelle case l'acqua della diga del Liscione. Una situazione che negli ultimi anni li ha esposti anche ad una serie di emergenze che hanno portato al divieto di utilizzo dell'acqua proprio a causa di eccessive dosi di disinfettanti usati per renderla potabile. Prima è toccato ai trialometani, più di recente ai cloriti, con disagi enormi per cittadini e attività. Ora però, finalmente, anche nelle case del Basso Molise arriverà l'acqua disorgente. I tempi ancora non si conoscono, ma la notizia è ufficiale. Nella seduta del primo maggio il Cipe ha approvato il progetto definitivo dell'acquedotto molisano centrale, sbloccando anche quella variante di Montenero di Bisaccia che negli ultimi anni aveva fermato i lavori. Un'opera pensata alla fine degli anni 70, iniziata nel 2007, che doveva essere ultimata nel 2012. La perizia di variante, chiesta dal comune di Montenero nel 2011, aveva bloccato i lavori sul più bello, lasciando l'opera incompiuta. Ora tutto può ripartire. Il Cipe ha aggiornato il costo del progetto a 89 milioni di euro, permettendo anche il miglioramento dei serbatoi di accumulo di San Giacomo degli Schiavoni e Termoli. L'acquedotto molisano centrale porterà acqua di sorgente in 11 comuni, e cioè Guardia Alfiera, Larino, Montenero, Guglionesi, San Giacomo, Petacciato, Ururi, San Martino, Porto Cannone, Campomarino e Termoli. L'opera si era fermata nel 2011, quando ormai era stata realizzata al 95%. Ci si augura che tra ultimazione dei lavori e collaudo ci vogliano ancora solo pochi mesi. Intanto un nuovo impianto di irrigazione tra Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni è stato inaugurato dal Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno. L'impianto consentirà di irrigare 200 ettari di terreno e viene alimentato da una vasca del sistema irriguo Biferno. Il servizio è gestito dalle centraline dei contatori di nuova generazione che consentono il prelievo dell'acqua con tessere elettroniche personali rilasciate ai coltivatori che ne faranno richiesta al Consorzio. Assemblea dei lavoratori della GAM e dell'RSU in azienda a Boiano chiedono alla politica, alla Regione, risposte sull'avvertenza e di essere coinvolti con un incontro su quanto si sta facendo. Se non otterranno quanto richiesto, lavoratori e rappresentanti sindacali inizieranno dall'11 maggio un presidio davanti la sede della Giunta regionale. Sentiamo. Abbandonati dalla politica e preoccupati per il futuro, è così che si sentono. I lavoratori della GAM lo hanno ribadito ancora una volta nell'ultima assemblea nello stabilimento con la RSU e i rappresentanti sindacali. La loro constatazione è che ad oggi non si sa se e come si vuole affrontare seriamente l'avvertenza dell'azienda di Boiano. C'è poca chiarezza, dicono, riguardo area di crisi complessa, masterplan, fondi del piano di sviluppo rurale, strumenti definiti dalla stessa politica importanti per riavviare l'attività produttiva. Quali prospettive? Due, le certezze. Continuano lavoratori e sindacati il bando per la GAM che scade il 14 giugno e la Cassa Integrazione che scade invece a novembre. E oltre quest'ultima data, sottolineano, non vogliamo andare. Sono tre anni che ci dicono di attendere e i dubbi sono troppi ancora, dal rinnovo degli ammortizzatori alla garanzia di essere ricollocati tutti. Insomma, è emerso dalla riunione e si apprende che ci sono imprenditori interessati all'azienda, ma la Regione non ha mai convocato un incontro specifico per fornire a sindacati e lavoratori elementi e informazioni in merito. E per questo chiedono con forza, onestà e chiarezza nel comunicare loro cosa stia accadendo. Chiedono risposte che non sono ancora arrivate a quelle domande fatte alla politica nell'Assemblea di gennaio, quindi nello specifico. Queste le richieste formalizzate nel documento della riunione, convocare subito un tavolo di confronto regionale, sviluppare un progetto di rilancio dell'attività produttiva, garantire la ripresa della produzione e i livelli occupazionali, organizzare percorsi di formazione e riqualificazione del personale per essere ricollocato e creare un sistema di sostegno a reddito durante la ristrutturazione della gamma ed eventuali percorsi di accompagnamento alla pensione per i dipendenti più anziani. Senza risposte, l'Assemblea ha deciso che avvierà dall'11 maggio un presidio a tempo indeterminato davanti alla sede della Giunta regionale. Si è svolto questa mattina dalle 8.30 alle 12.30 lo sciopero del personale della GTM di Termoli. Per quattro ore gli autobus del trasporto urbano sono rimasti fermi per protestare contro il mancato pagamento di due mensilità e contro i sistematici ritardi nell'erogazione degli stipendi. Lo stop è stato concordato al di fuori delle fasce di garanzia del trasporto pubblico urbano per non creare disagia a studenti e lavoratori. Opera di pubblico interesse così è scritto in una delibera della Giunta comunale di Campobasso che ha dato il Via Libera alla proposta di project financing da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese per la realizzazione in concessione di lavori di ripristino funzionale e gestione del terminal degli autobus extraurbani. Nel provvedimento viene anche specificato che l'amministrazione comunale potrà invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Ed è stato aggiudicato in maniera provvisoria l'appalto per i lavori di riqualificazione del centro di Termoli che prevedono il tunnel sotto al Borgo e un parcheggio interrato. La gara è stata vinta dall'unica ditta che ha risposto al bando la De Francesco di Castelpetroso che si sta occupando anche dei lavori sul lungomare. Sentiamo. Nello stesso giorno in cui i comitati referendari hanno depositato le 3.000 firme per chiedere di congelare l'iter di affidamento dei lavori per il tunnel sotto al Borgo in comune sono state aperte le buste del bando di gara. A presentare domanda è stata solo una ditta la De Francesco Costruzioni di Castelpetroso l'azienda che si è occupata anche della riqualificazione della scala a chiocciola di quella del Corso e del lungomare Nord. E proprio ieri la commissione in via provvisoria ha giudicato il bando alla De Francesco. Il progetto da 19 milioni di euro è molto più ampio e non prevede solo la realizzazione del tunnel che collega il porto al lungomare Cristoforo Colombo per cui sono già pronti 5 milioni di euro ma anche un parcheggio sotto piazza Sant'Antonio di 5 piani e il recupero di Pozzo Dolce con ulteriore area di sosta e di intrattenimento. Il resto delle risorse sarà il privato a metterle con un project financing. Ci saranno nuove aree verdi e piazza Sant'Antonio verrà riqualificata tornando a essere quel giardino che era inizio del secolo scorso. La viabilità verrà rivoluzionata e per questo che all'interno del bando è prevista anche l'individuazione da parte della ditta vincitrice di soluzioni eco sostenibili come l'affitto di bici o le auto in condivisione. Ora la De Francesco ha sei mesi di tempo per presentare il progetto definitivo e reperire nel frattempo le autorizzazioni urbanistiche necessarie per l'opera. La battaglia dei comitati referendari intanto va avanti e il 9 maggio verranno ricevuti dal sindaco Angelo Sbrocca che ha intenzione di organizzare anche incontri pubblici per spiegare meglio e far conoscere il progetto destinato a rivoluzionare il centro di Termoli. Una ragazza rumena residente in Abruzzo ha rubato occhiali e profumi in alcuni negozi del centro commerciale a Montenero di Bisaccia ma è stata scoperta e arrestata dai carabinieri era stata notata dal titolare del punto vendita mentre si appropriava della merce i carabinieri nella borsa della donna hanno trovato anche molte lenti che le aveva rubato a un ottico e quindi scattato l'arresto in flagranza ai domiciliari il giudice del tribunale di Larino dopo aver convalidato l'arresto ha stabilito l'obbligo di dimora sempre i carabinieri di Montenero nello stesso centro commerciale hanno sorpreso due giovani di 20 e 29 anni con vestiti appena rubati anche per i due sono scattate le manette con confino in casa e l'accusa di furto aggravato anche a Campobasso è stato celebrato il 155esimo anniversario della costituzione dell'esercito italiano cerimonia sobria al comando regionale nella caserma dopo l'alza bandiera è stato letto il messaggio del capo di stato maggiore generale Danilo Enrico e quelli del capo di stato maggiore della difesa generale Claudio Graziano e del presidente della Repubblica Mattarella poi al cimitero del capologo un momento di preghiera è la deposizione di fiori sulla tomba del caporal maggiore Alessandro Dilisio morto in missione in Afghanistan il 14 luglio del 2009 alla cerimonia presenti familiari il comandante dell'esercito molise Angelo Ionata è una rappresentanza di ufficiali sotto ufficiali e graduati del comando molisano all'hotel San Giorgio di Campobasso si è tenuto un seminario di aggiornamento per gli avvocati sul tema della risoluzione alternativa delle controversie un'iniziativa dell'associazione Forense Campobassana sentiamo un momento di formazione con lo scopo di mantenere la categoria degli operatori del diritto sempre aggiornata un appuntamento che ha permesso di porre l'accento su uno dei temi più attuali nel panorama giudiziario la risoluzione alternativa delle controversie questo è il titolo del seminario organizzato dall'associazione Forense di Campobasso nella sala convegni dell'hotel San Giorgio del Capoluogo ma vediamo di cosa si tratta sostanzialmente si vuole tentare di risolvere le controversie fuori dalle aule di tribunale attraverso uffici di mediazione strutture gestite dall'avvocatura e da esperti l'obiettivo di tale procedura è stato spiegato da Demetrio Rivellino presidente dell'ordine degli avvocati questo per deflazionare il numero di procedimenti civili pendenti perché parliamo del settore civile nei tribunali in tutta Italia nelle corti d'appello il dubbio che c'è su questo è se questo sia un tentativo di privatizzare la giustizia ovviamente se non è così se invece si vuole veramente raggiungere il risultato di avere controversie decise in poco tempo in modo giusto ed equo allora il discorso è diverso però c'è un bisogno di un cambio di cultura dei cittadini cioè i cittadini che vedono la giustizia molto lontana devono abituarsi attraverso l'avvocatura attraverso gli operatori e gli esperti a vedere risolte le loro controverse ovviamente con incentivi perché in questo momento l'accesso alla giustizia è un accesso per pochi in quanto i costi sono lievitati in modo non uniforme rispetto al costo della via e quindi che il cittadino si abitua anche a che la giustizia venga risolta fuori dalle sedi del tribunale un confronto che ha richiamato la presenza di molti giovani insieme ad avvocati esperti tutti pronti all'aggiornamento necessario per l'avvocato e per ogni professionista che lavora nel campo del diritto grazie a un doppio sorpasso i giovani si sono aggiudicati la carrese di Ururi il verdetto è arrivato a pochi metri dal traguardo al termine di una corsa regolare e carica di emozioni i carri sono arrivati uno dietro l'altro all'incrocio delle strade ma proprio a poca distanza dall'arrivo i giovani sono riusciti a imboccare per primi via commerciale grande festa per il carro bianco celeste che domani pomeriggio avrà l'onore di portare in processione la reliquia del sacro legno della croce a Isernia è stato presentato un libro dedicato a Girolamo Pallotta uno dei personaggi dei protagonisti del risorgimento il volume è stato curato da Francesco Tavone il nostro servizio Girolamo Pallotta politico molisano dell'Ottocento è uno dei protagonisti del risorgimento italiano partecipò ai moti del 1848 fu convinto sostenitore dell'unità d'Italia subendo persecuzioni dalla polizia borbonica tra le sue battaglie si ricordano anche quelle per garantire a tutti l'assistenza medica e per assicurare l'istruzione alle donne le idee e gli avvenimenti che segnarono la sua attività politica sono ora raccolte in un libro curato da Francesco Tavone è stato presentato all'archivio di stato di Isernia è senz'altro uno dei personaggi politici più importante dell'Ottocento molisano per quanto riguarda il contributo da lui dato al risorgimento nel Molise senz'altro va citato l'insurrezione di Boiano del settembre 1860 il 6 e 7 settembre 1860 giorni in cui la città di Boiano si ribella ai borboni e aderisce alla causa unitaria per quanto riguarda invece un discorso più ampio che riguarda il risorgimento nazionale va sottolineata la sua collocazione in quella che era la sinistra di allora della sinistra alla politica di allora e il contributo che ha dato il dibattito parlamentare con una serie di proposte di legge per esempio una ferrovia che è una proposta relativa alla ferrovia da Termoli che doveva arrivare a Benevento passando per il Biferno per la Fondo Valle del Tamaro oppure la difesa che lui ha portato avanti a oltranza la difesa del territorio bolisano quanto si è formato la provvigia di Benevento poi è stato un amico molto vicino a Garibaldi a Campodipietra una serata dedicata ad Aldo Ricciardi musicista molisano scomparso di recente sentiamo Valeria Farina la poesia la canzone molisana e l'affetto di tanti amici uniti nel ricordo di Aldo Ricciardi Ricciardi maestro e compositore molisano scomparso poco più di due mesi fa è stato ricordato nella chiesa di San Martino a Campodipietra paese dove nacque questo è un giorno particolarmente triste per noi in quanto lui purtroppo non c'è sarebbe stato felicissimo di esserci questo giorno di commemorazione è stato veramente sentito veramente è venuto dal profondo del cuore una serata all'insegna di tutto ciò che Aldo Ricciardi aveva nel cuore il molise la storia e l'amore per il folklore locale tanti gli artisti che hanno cantato i suoi brani e poi i bambini della quarta e quinta elementare della scuola di Campodipietra che hanno preso parte alla manifestazione 20 anni abbiamo suonato insieme dal 74 fino al 94 poi siamo stati in Canada e finita là e quindi questa sera era nostro dovere ritornare a suonare per lui il ricordo di Aldo Ricciardi che con la sua musica ha portato in alto il nome del molise portandolo anche oltre oceano Aldo è stato un testimone di quelle che sono le buone pratiche di quelle che sono le buone abitudini di quelle che è la buona educazione soprattutto lui oltre ad essere un artista è stato un insegnante di vita è tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.